Presentato questa mattina presso la sede del Rettorato di Viale Crucioli, il bando del progetto Sport & Work per corsi integrati di inserimento lavorativo. L'iniziativa è riservata a 90 giovani, tra diplomati o laureati, disoccupati o precari, con un'età massima di 32 anni. L'obiettivo è quello di formare figure specialistiche da inserire nei settori dell'organizzazione, della gestione e della comunicazione dei giochi del Mediterraneo, in programma a Pescara dal 26 giugno al 5 luglio prossimi. Con questa collaborazione con l'università, con i giochi del Mediterraneo e con tante associazioni sportive importanti che ci sono in Abruzzo, ci auguriamo che tanti giovani possano acquisire competenze significative che poi possono portarli a trovare una buona occupazione. La domanda di iscrizione scadrà lunedì 11 alle ore 12, sei corsi che partiranno il 13 maggio per un totale di 400 ore a disposizione dei 90 giovani prescelti. La cosa importante che vorrei dire, quello che conterà poi sarà il monitoraggio, cioè capire quanti di questi 90 ragazzi riusciranno a trovare uno sbocco lavorativo. Se saranno un numero cospicuo vorrà dire che è stata buona formazione e altrimenti ci dovremmo riflettere sopra.